Gli osservatori della Juventus sono andati in Brasile per vedere da vicino un talento argentino. Rodrigo Garro è uno dei principali giocatori del calcio brasiliano al momento. L'argentino, che gioca come centrocampista, è nel mirino di alcuni club europei e la Juventus appare come una forte candidata per l'acquisto del giocatore. Secondo le informazioni rivelate, gli osservatori della Juventus sono stati in Brasile domenica scorsa per vedere Rodrigo Garro in azione contro il Bahia. A seconda del rapporto consegnato dagli osservatori, potrebbe arrivare una proposta ufficiale della Juventus per Rodrigo Garro. Rodrigo Garro ha un valore di 7 milioni. È stato acquistato dal Corinthians all'inizio del 2024 per soli 300 mila, il che mostra che ha avuto una crescita significativa nel suo valore, indicando che sta facendo buone partite. Grazie a tutti.